Mentre nel suo Brasile adesso fa molto caldo, dall'altra parte dell'oceano il Natale lo si festeggia con freddo e nebbia, eppure saranno feste serene, trionfali per Raffael Bondi. È lui l'uomo simbolo del finale d'anno dell'Ancona, è lui il giocatore in più che ha cambiato volto la squadra biancorossa in questo mese di dicembre, risultando decisivo nelle ultime quattro vittorie di fila. Da settembre alla fine di novembre, coincisa con la prima e unica sconfitta finora in campionato al Conero contro il Giulianova, Bondi aveva fatto assist a manciate, su azione, su punizione, su calcio d'angolo. Aveva trovato il primo gol con la maglia biancorossa ad Agnone, poi si è ripetuto a Iesi regalando i tre punti con un'inzuccata al Carotti, quindi aveva messo il sigillo sul bellespluati sul Mona. Tutti però, compreso il suo mentore Marcaccio, attendevano di rivedere la versione superstar di Rafa, quella che più volte ha spinto Mr. Cornacchini a dire che Bondi è uno capace di spaccare le partite, tanto è forte il suo impatto in campo. La svolta, appunto, a dicembre. Sei gol in quattro match, con due doppiette, firme pesantissime, che hanno spinto l'Ancona al più sei sul Termoli. Ci ha pensato un bolide di sinistro a mettere al sicuro il derby scomodo di Recanati. Un colpo di testa e un tocco sotto misura hanno invece scacciato i fantasmi della Beffa contro ciò che resta dell'Isernia, passata clamorosamente in vantaggio al Conero. Di nuovo due reti contro la Fermana al Recchioni, da opportunista dell'area di rigore e la conquista della vetta nella speciale classifica dei marcatori dorici. Un titolo mantenuto domenica scorsa ed è storia più recente, col diagonale all'angolino che ha fatto esplodere tutto lo stadio e completato la remonta sul Fano. Un gol che ha tenuto dietro tutte le altre e rasserenato l'ambiente bianco-rosso per la sosta. Quindi non ci sono dubbi sul fatto che Bondi sia l'uomo copertina di questo fine 2013.